Segue la seconda categoria di Enrico Mannucci, gli equilibri instabili. Il tema è difficile trovare un equilibrio tra realtà o sogno. Il nostro essere, sempre in bilico, è rappresentato da pagliacci e acrobati che si muovono su un cuore, un sole e una luna che rappresentano la nostra anima. Grazie a tutti.